Guarda, Krillie! Arriva qualcuno! Sono... sono Saiyan! No, sta tranquilla, non si tratta di Vegeta, è qualcuno molto più debole! Il Signore proviene da questa parte, dovrebbero essere qui Saranno gli abitanti di Namek! Avete idea di chi può essere? Non saprei, probabilmente sono Namekciani No, non sono abitanti di questo pianeta! Ma, quelli chi sono? Se non sono gli abitanti di Namek, non ne ho idea! La cosa non ha la minima importanza Abbiamo l'ordine di sopprimere qualunque creatura vivente avvistata sul pianeta Avete notato come sono vestiti? Indassano la stessa tuta dei Saiyan, eppure non sono Saiyan! Che cosa hai detto? Mi spiace ripetermi, amici, ma ho un brutto presentimento Sì, anch'io, purtroppo! Non mi sembra che quei due energumeni abbiano un'aria tanto amichevole Ehi, Go, cerca di concentrarti più che puoi E di accumulare molta energia Ho capito, d'accordo Ma guardali, i loro poteri sono praticamente inesistenti Poveri insetti Forse sono soltanto turisti Ma hanno scelto il momento sbagliato per la loro vacanza Facciamoli fuori! Volentieri! Questa non ci voleva Ha colpito la nuova vicenda Sono davvero dolente Ma i prossimi bersagli sarete voi, miei cari Gohan, forza, preparati all'attacco Sono meno potenti di quanto vogliono farci credere Ehi, amico, li hai sentiti? Ho sentito benissimo Ma perché ci hanno preso? Che cosa? Il livello di combattimento sta salendo Pronto, amico Certo Bravo! Bravo!